Amici buongiorno, oggi il blogger è a Sibiu, sarò qui per una settimana perché seguirò il Red Bull Romaniacs in molti avete iniziato a vedere che abbiamo iniziato a postare qualcosa, benissimo sono inviato per Indurista Magazine, quindi il Pass Media, foto e video ma sarò anche qui in veste di pilota, perché? Perché in sella alla Gas Gas correrò nella classe Iron perché è invitato dall'organizzazione che ringraziamo sempre e racconterò cosa vuol dire partecipare da pilota amatoriale alla classe Iron l'Entry Class, si pronuncerà una settimana un po' umida, anche Martin nell'intervista che abbiamo fatto questa mattina ha detto che sarà un'edizione epica a partire dal tempo quindi rimanete connessi, faremo un collegamento giornaliero per raccontare un po' come è andata poi ci sarà un bel report su Indurista Magazine di settembre, vi presenterò un po' alla volta quelli che sono i miei compagni di avventura, ci sarà con me la prima donna italiana partecipante al Red Bull Romaniacs e ci sarà anche un ragazzo che italiano arriva dall'Indonesia a supporto di tutto ci saranno i ragazzi del Natural Enduro Team amici, lui è Bobizza, il nostro salvatore sono... merda ascolta, ma tu cos'è che fai qua con noi? un attimo! non mi vengono le parole in italiano il mio compito di nuovo vi dico che è di portare la Deborah, la Blogger e tutti i ragazzi italiani che c'ho qua nella squadra a finire questa gara vediamo un po' come è il tempo il tempo... una merda una merda non dico niente vedete la fine della gara adesso facciamo vedere se io giro velocemente la camera chi c'è che... eccoli qua, gli stalker ciao Petty, Deborah per ora è tutto